Una lobby di potere al comando di Trani. E' questa l'accusa più grave fatta dal procuratore della Repubblica Carlo Maria Capristo per descrivere l'inchiesta che questa mattina ha portato all'arresto del sindaco Luigi Riservato ai domiciliari, dell'ex vice Giuseppe Di Marzio, del consigliere comunale Nicola Damascelli, dell'ex consigliere Maurizio Musci dimessosi lo scorso maggio, e dell'ex amministratore unico dell'AMIU, Antonello Ruggero, oltre al funzionario anche quest'ultimo come riservato ai domiciliari, Edoardo Savoiardo. Sono gravissime le ipotesi di reato presentate dall'Associazione a delinquere alla concussione, accuse che rientrano in un sistema che comandava la città, con modalità varie dall'imposizione di assunzioni lavorative, secondo logiche clientelari di scambio e asservimento alla loro parte politica e dietro minaccio di ritorsioni presso società operanti a servizio del Comune all'interferenza nelle gare d'appalto. Gli indagati avrebbero sollecitato anche la corresponsione di tangenti in denaro o di altre utilità in cambio della giudicazione di gare d'appalto, fino all'intimidazione ad avversari politici ed oppositori interni alla maggioranza attraverso ritorsioni come licenziamento in danno dei cittadini ed elettori vicini agli oppositori. Gli odierni provvedimenti cautelari costituiscono una prima e urgente risposta a un diffuso ed insidioso sistema di condizionamenti ed interferenze illecite nella gestione di appalti e più in generale della cosa pubblica nel Comune di Trani. L'inchiesta è partita dall'incendo di origine dolosa al capannone del consigliere Damascelli del settembre 2013. Secondo la ricostruzione della Procura, alla base di quell'atto doloso vi era l'aggiudicazione di un appalto milionario bardito per la vigilanza degli immobili comunali di Trani. Nel corso di approfondimenti investigativi emergeva una connessione di quel drammatico episodio con la procedura di aggiudicazione dell'appalto, un appalto milionario, bandito per la vigilanza agli immobili comunali di Trani. Da un'analisi accurata da parte degli investigatori, la procedura adottata disvelava sia prassi e metodiche criminose, costituendo una manifestazione del voto di scambio per la gestione degli appalti pubblici e nella conduzione della stessa vita politica dell'amministrazione tranese. Questo ufficio, come sempre, assicura il proprio deciso impegno nella prosecuzione delle investigazioni per accertare dove vi fossero ulteriori fatti reato e profili di responsabilità penale ad ogni livello. Non è escluso che l'inchiesta possa allargarsi a macchia d'olio nei prossimi giorni e che possano esserci altri arresti.